Sono 3 miliardi di liquidità quantomai immessi nella regione Campania, significa imprese, significa cittadini, significa chi non è stato pagato per tanti anni che ha situazioni di credito verso la regione e verso gli enti locali perché noi diamo anche risorse ai comuni con questa misura. Tutta regionale, voluta dalla regione, di una situazione di virtuosa perché ci sono risorse che noi paghiamo come debito ma per coprire un debito commerciale, significa 3 punti di PIL, tanta ricchezza, che mi auguro possa generare nuova ricchezza, che venga reinvestita e non tenuta ferma con erendita non utile, ma che venga reinvestita dal mondo delle imprese, significa 3 punti di PIL, se va tutto bene, significano tanti posti di lavoro in più, tanta ricchezza in più per la nostra regione. Possiamo dire che abbiamo fatto l'unica regione italiana, perché le altre regioni non hanno potuto fare quello che abbiamo fatto noi, cioè avere questi 3 miliardi, trovare questi 3 miliardi senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini, cioè senza chiedere a loro maggiori tasse o più imposte. Voi sapete che ogni volta che si trovano soldi in questo paese e si chiedono poi ai cittadini di pagarle con le imposte, la regione Campania è riuscita con la sua politica attenta, credo virtuosa in questi anni, di poter avere questi 3 miliardi senza chiedere appunto ai cittadini, senza mettere le mani in tasche ai cittadini. Tra il piano che riguarda circa 1 miliardo complessivamente, 800 milioni di misure dirette più altre, che riguarderanno il problema ormai che abbiamo, che è uno dei problemi gravi della nostra regione, dove ci stanno dentro i cittadini che devono avere un buon servizio, le società regionali che devono fare gli investimenti, soprattutto tante imprese che non vengono pagate dal sistema dei trasporti. Quindi anche in questo caso risolviamo un problema che vecchio ormai da 30 anni, che si trascina da 30 anni nella nostra regione. Lì su quello abbiamo già liquidato più di 500 milioni, nei prossimi giorni si liquideranno altre 400 milioni, che sono stati già immessi nel sistema di questi 3 miliardi, già 500, quindi questo genererà credo anche nel settore della sanità, ma basta sentire i fornitori della sanità, se li ascoltate a partire dalle farmacie, che sono i primi fornitori istituzionali, ma tanti altri, la situazione è molto cambiata rispetto agli anni scorsi. Oggi i tempi di pagamento si sono ridotti di molto e abbiamo soprattutto coperto gran parte del debito pregresso.